E così in Brasile ha trionfato Bolsonaro. Contrariamente alla vulgata che lo esalta oggi come un populista che segnerebbe, si dice, il risveglio delle classi dominate contro il mondialismo infelice, Bolsonaro è espressione del mondialismo, è a vocazione atlantista. Sappiamo benissimo da chi è supportato, Israele e Stati Uniti in primis, e chi egli supporta con convinzione, Israele e Stati Uniti. Addirittura ha affermato, prima di essere eletto, la sua volontà di togliere, rimuovere dal Brasile l'ambasciata palestinese. Addirittura ha affermato, senza ambagi e senza esitazioni, di voler appoggiare in toto Trump e gli Stati Uniti d'America. Sicché Bolsonaro si conferma per quello che è un vettore dell'atlantismo in terra di America Latina. È in qualche modo più simile ai colonnelli alla Pinochet che non ai guerriglieri rivoluzionari alla Che Guevara. Se non avesse, se avesse la divisa addosso dei colonnelli anni 70 probabilmente si manifesterebbe al meglio. Per ora non ce l'ha, ma comunque rivela al meglio quello spirito neoservile rispetto agli Stati Uniti di totale repressione delle rivolte dal basso in chiave rivoluzionaria. Ma non è solo l'atlantismo servile di Bolsonaro a dover essere qui analizzato, vi è anche il pacchetto di riforme che gli si accinge a varare nel suo paese. Un pacchetto di riforme totalmente all'insegna del liberismo più spietato, totalmente a documento delle classi lavoratrici e popolari e a beneficio esclusivo delle classi dominanti, quelle che guardano con simpatia per inciso agli Stati Uniti d'America al loro modello di classismo reificante totale, quelle che per inciso guardano con disprezzo completo alle classi lavoratrici. I nostri sovranisti italici sbagliano in maniera grossolana a vedere in Bolsonaro un alleato. Resta da capire se sbaglino per ingenuità o per cattiva fede. Bolsonaro non è un populista nell'accezione europea, o se preferite è un populista in senso rovesciato, è un populista che guarda al signore globale elitario contro il servo nazionale popolare, è un populista rovesciato perché guarda al capitale contro il lavoro, guarda agli Stati Uniti contro i paesi non allineati potenzialmente a patriottismo socialista. Non c'è da stupirsi se un giorno porterà fuori il Brasile anche dai Brics. In sostanza Bolsonaro è l'uomo degli Stati Uniti d'America, piazzato come un tempo si piazzava un Pinochet qualunque, in questo caso in Brasile. Il suo obiettivo è chiarissimo, riallineare il Brasile all'ordine liberista americanocentrico, destituire ogni rivolta dal basso e ogni anelito nazionale popolare di patriottismo socialista nel senso castrista o nel senso di Chavez o ancora nel senso di Evo Morales. È essenzialmente una pedina etero diretta messa lì su decisione statunitense e con pieno appoggio popolare, quello va detto. Come si spiega questo appoggio popolare che Bolsonaro ha evidentemente? Forse anche in ragione del fatto, per dirla con il Dante della Commedia, che il popolo sofferente prova a spostarsi sul lato opposto per alleviare le proprie pene. Forse anche in ragione del fatto che il popolo ha già sperimentato tutto e vuole provare qualcosa di nuovo. Forse anche in ragione del fatto che Bolsonaro si presenta a tratti come un caudillo qualunque. In ogni caso, nell'analisi attenta dei rapporti di forza, egli è l'unione spietata fra una destra estrema e il liberismo neoatlantista totale. Qualcosa di simile, se vogliamo, all'Ucraina antiputiniana del 2014, con colpo di Stato in quel caso. In questo caso di Bolsonaro no, ma quello fu un colpo di Stato neonazista in funzione atlantista e antirussa, antiputiniana. Ecco in breve l'identikit di Bolsonaro. Un nemico, se lo si conosce, non certo un amico. Un nemico del suo popolo, delle rivolte dal basso. Un nemico dei paesi non allineati rispetto alla monarchia talassocratica, neo-leviatanica del dollaro, gli Stati Uniti d'America. Ecco perché occorre contrastare Bolsonaro e non appoggiarlo. Ecco perché ancora occorre ravvisare in lui i sembianti di un nemico e non di un amico.